Posso continuare? Continuiamo! Terza parte, sua speciale Natale, prima frase nel regno di ghiaccio. Ehi! Continuate! Guardate! Attenzione! Non ci credo, caccio! Mi metto anche nei miei occhi! Lo so già! Lo dico già l'anno scorso! No! Guardate ancora! Guardate ancora! No! 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 Oh! No! 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 Che facciamo? Ehi! Attenzione! Attenzione! Volete guardare? No! 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 Si chiede! No! No! Poi Per me che sono fuori forno. Ecco, ecco. Ehi, Emma! Ma, dove siete? Abbiamo semiliato la grande, il tuo pozzone! E sta parlando giusto parlando con te? Solo due settenti, solo due settenti! No! No! No, 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 no! 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 Non tornate a fio! Mamma mia, guardate! Ehi, è un risultato come te nello spusino! Ops